In chiusura importante accordo raggiunto tra la struttura sanitaria Alcamese, Villa Sarina e la direzione generale INAIL di Palermo. Abbiamo raccolto quanto dichiarato dal direttore amministrativo Nuzzo nonché dal direttore sanitario Scalisi che anticipano anche la premiazione prevista per sabato 16 ottobre prossimo rispetto al concorso letterario caro amico ti scrivo c'era una volta il Covid-19 bandito dall'associazione Sclerosi Multipla Sacro Cuore di Alcam. Per voi i dettagli. Nel marzo del 2021 è uscita una circolare che l'INAIL voleva convenzionare i pazienti già in essere per gli infortuni sul lavoro per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro da Covid. Siamo riusciti a ricostituire un'equipe pluridisciplinare composta da 12 persone, questo è quello che chiedeva l'INAIL. In più la struttura dove avere una palestra in modo, loro mi descrivono in modo particolare, mi è arrivato alla convenzione e sono particolarmente orgoglioso io assieme al direttore sanitario, dottore Scalisi, che siamo una delle pochissime strutture in Sicilia. Siamo soltanto in tre, a Cireale, il Bocchiera Ferla di Palermo e noi. Spero che noi non abbiamo pazienti da infortuni o lunghi Covid, purtroppo hanno sempre dei disturbi. Noi abbiamo in effetti da maggio 2020, abbiamo avuto l'intuizione di suddividere i pazienti post-Covid in due gruppi, pazienti che uscivano fuori dalle terapie intensive. L'altro gruppo erano in isolamento fiduciario o ricoverati nelle terapie normali ospedaliere. Soprattutto abbiamo fatto esperienza anche sul primo paziente della provincia di Trapane. A tal proposito abbiamo fatto due lavori scientifici con il CNR di Palermo e l'Università. Ci troviamo in questo istante noi per fare questa intervista in un bel spazio a verde, interno alla struttura, utile a cosa? Per ripigliare la propria vita, perché questi hanno grossi problemi sia respiratori che neurologici. Abbiamo creato anche un percorso all'interno della struttura in questo giardino. Come lei vede c'è una tranquillità notevole. Questi soggetti che eventualmente presentano altri disturbi vengono sottoposti a visita dallo specialista. Come diceva il nostro direttore amministrativo, il dottore Nuzzo, abbiamo creato un gruppo, un'equip pluridisciplinare. Pertanto chi ha contratto l'infezione nell'ambito lavorativo e quindi è sotto carico dell'INAIL può usufruire di questa struttura e di questa equipe. Se non erro, sabato stiamo alle battute finali per quanto riguarda questo premio letterario. Essendo io il responsabile di un'associazione, l'associazione di sclerosi multipla al sacro cuore di Alcamo, per cercare di rendere attivi i nostri assistiti e associati nel periodo del look down, la nostra associata, Mimma Serenella, si è inventata di far fare una lettera, un elaborato ai nostri assistiti e associati dal titolo c'era una volta il Covid, caro amico ti scrivo pensando al soggetto già nel 2030 che descriveva ciò che è accaduto nel 2020. Sabato 16 ottobre alle ore 17.30 presso l'Istituto Tecnico Caruso di Alcamo ci sarà la premiazione dei tre elaborati, primo prima che è di una targa ovviamente e di un assegno di 500 euro. Sono arrivate circa 500 lettere da tutto il mondo, il filo che collante, il filo che li unisce era la speranza, la speranza appunto ai vaccini e quindi che si possa uscire dalla pandemia. Un grosso lavoro ma alla fine una certa gratificazione per me e per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo concorso.